300 ore di pianoforte non stop, si prepara il lungo weekend che da venerdì 5 a domenica 7 dicembre porterà la musica in ogni angolo della città. Piano City Napoli torna per la seconda edizione, con concerti ed eventi che animeranno i salotti napoletani, musei, palazzi storici, chiese e biblioteche. Nato da un'idea del pianista tedesco Andreas Kern, il festival è organizzato a Napoli dalla storica casa di pianoforti Alberto Napolitano, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, la mostra d'oltremare e la camera di commercio. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, avremo oltre 300 pianisti tra professionisti e appassionati e avremo oltre una settantina e ottantina di studenti che arrivano anche dai licei musicali e dalle scuole medie, quindi con il vincimento anche delle istituzioni pubbliche. Altra novità importante di quest'anno è una sinergia con la mostra d'oltremare che ci ha permesso di rafforzare il festival e di trovare una location più idonea, con un'acustica più idonea rispetto all'anno scorso. 300 i pianisti coinvolti in oltre 200 eventi che saranno distribuiti in 60 abitazioni private e 40 luoghi d'arte. Ci sarà spazio per il classico, il jazz, la musica popolare e quella napoletana, con spettacoli a tutte le ore che quest'anno si terranno per la maggior parte alla mostra d'oltremare. Al Teatro Mediterraneo, per la serata inaugurale, ci sarà l'anteprima mondiale del Ghost Concert con il Fantasma di Rachmaninoff, progetto con musica e proiezioni in 3D del pianista Roberto Prosseda. Questa idea dell'apertura, dell'aprirsi, di aprire gli spazi, di aprire le case, di un'occasione di ricostruzione, di socialità, di incontro attraverso la cultura, insomma qualcosa che veramente palpita e risuona con l'animo di Napoli. Quindi io ringrazio moltissimo gli organizzatori per avere portato questo format a Napoli. Abbiamo avuto un enorme successo l'anno scorso, sono sicuro che ripeteremo e amplificheremo questo successo e sempre di più, diciamo, Napoli risuonerà di musica e attraverso il più universale dei linguaggi, che è la musica, Napoli risuonerà nel mondo. Anche quest'anno Piano City Napoli sarà in periferia, con la partecipazione del quartiere di Piscinola al weekend del pianoforte. La rassegna inoltre darà spazio ai compositori partenopei, che sabato al Palacongressi dedicheranno alla canzone napoletana un concerto solo piano, con la partecipazione speciale di Geggi Finizio e la maratona improvvisata domenica mattina al Museo PAN. Grazie a tutti.